Sono contento, sono arrivato ora qui al centro e ho conosciuto i ragazzi, a parte tanti già ne conoscevo, ho conosciuto il mister e sono pronto per mettermi al lavoro. Ho inciso anche il volere del mister Montella perché mi ha chiamato più volte per venire, mi sono sentito lusingato e ho deciso di venire qua. Un gruppo che ha tante individualità, ha forti, ho la fortuna di conoscerne già tanti, di aver giocato insieme a loro e quindi per me è un punto a mio vantaggio perché spero di metterci poco ad ambientarmi. Sicuramente non è una posizione che rispecchia le qualità di questa squadra e adesso da oggi mi metterò al lavoro per dare una mano a questo gruppo. Ho sentito Viviano, Palombo che mi hanno detto, insomma, quando arrivavo erano prementi di aspettarmi, di salutarmi e anche loro mi hanno dato una mano a convincermi per venire qui, ma ripeto, il mister ha fatto tanto perché io fossi qui e io l'ho voluto fortemente. Tanti messaggi da parte dei tifosi sui social network, la tua pagina Facebook, Twitter, attestati di stima, ora tu cosa ti senti di dire ai tifosi della Samp? Li ringrazio e spero di ripagare la loro fiducia e spero di ripagare la fiducia anche del mister e dei compagni.